Con le violente scosse del 30 ottobre di 7 anni fa l'area colpita dal terremoto raddoppiò. Altri 4.000 km dell'Italia centrale dopo il tragico 24 agosto furono coinvolti in un evento sismico che l'INGV ha poi definito come quello di Amatrice Visso Norcia per indicare la vasta area in tutto 8.000 km per un totale di 600.000 abitanti e 27 miliardi di danni di fragilità con cui si è dovuto fare i conti. Tra il 26 e il 30 ottobre le distruzioni si sono moltiplicate e in questi 7 anni abbiamo dovuto registrare troppe false partenze nel percorso della ricostruzione, commenta il commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli. Ora mi sembra giusto segnare in questo anniversario l'avvio di un sensibile cambio di passo, anche grazie al sostegno e all'attenzione dimostrata nei confronti dell'Appennino centrale dal Governo. Il cambio di passo avvenuto non può far dimenticare le tante cose ancora da fare. Ci sono ancora lavori per almeno 9 miliardi per la ricostruzione pubblica e almeno 11 miliardi per quella privata. Ci sono ancora tante persone, circa 30.000 che vivono fuori dalle loro case e questo non ci può rendere tranquilli, aggiunge Castelli, ma anche sul fronte della ricostruzione privata devo segnalare che nel solo mese di ottobre sono stati liquidati 135 milioni di euro per i lavori eseguiti. Il percorso di ricostruzione nell'area del cratere ha dovuto e deve fare conti con alcune contingenze avverse. Il caso del 110% ha distolto molte imprese dall'attività nei 138 comuni colpiti dal sisma del 2016 e chi ha lavorato oggi si trova a dover registrare una difficoltà nella liquidazione delle competenze. Ci sono 700 milioni di euro da sbloccare per ridare ossigeno alla ricostruzione. L'assenza di un plafond finanziario rischia di compromettere molte attività di recupero edilizio in corso, spiega Castelli. E per questo ci stiamo adoperando per poter aggiungere al contributo sisma anche il contributo del 110% che sarà attivo nelle zone del cratere per tutto il 2025. Oltre alla ricostruzione continuano le azioni per assicurare una rigenerazione del tessuto sociale ed economico del territorio ferito dal sisma. Il progetto Next Appennino, con il fondo complementare al PNRR, ad oggi ha finanziato quasi 400 milioni di euro per più di 1300 imprese, generando investimenti complessivi di oltre 760 milioni di euro. Durante l'odienza concessa da Papa Francesco al Commissario Guido Castelli lo scorso 26 ottobre, nell'anniversario della nuova sequenza sismica culminata con le scosse del 30 ottobre, è stata annunciata un'odienza speciale e straordinaria per tutti i fedeli e i residenti dell'area colpita dal sisma. L'appuntamento è per il prossimo 24 novembre a Roma. Non si tratta solo di un grande conforto per chi crede, conclude Castelli. Il sostegno del Papa sarà utile a tutti per proseguire con coraggio nella ricostruzione e nella rigenerazione del territorio, delle comunità che lo abitano e delle imprese che vi lavorano.